6 luglio è fatta, è fatta, il Bologna è andato giù per l'arco. Ragazzi, un altro anno di nuovo serie B. Complimenti a tutti, complimenti per l'impegno. Io sono venuto tra partite, questa non potevo mancare. Mi prendo la responsabilità di stappare questa bottiglia pregiatissima, uno chardonnay. Ragazzi, forza! No, non c'è niente. Ma è un cesso sta bottiglia. Ragazzi, c'è un bel primo piano di Alessandro col nome. Alessandro col nome? Bellissimo. GV, come questa storia? Che bottiglia hai portato? Forse ancora si riegi? Fammi vedere che andiamo sul tacco. Oh! Forza Sestri!